Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti in un nuovo Mook Bang! Allora ho messo questa ciotolina qua che c'è praticamente la macedonia ieri e così vedete bene il piatto, vedete bene anche me, dovete vedere bene tutto Fatemi sapere, Mook Bang fatto con la pasta e polpette, ma che buone! Che profumino ragazzi, allora questo, questa è la polpetta, questa è la polpettina, profumo sublime Buon appetito amore, buon appetito mamma, buon appetito, buon appetito! Come amore? Buono, lo faccio io? Non è vero, l'ho fatta io, ogni volta che faccio le cose l'ho fatto io, l'ho fatto lei Allora, voglio fare, vorrei fare questo Mook Bang senza tagli, secondo voi ci riesco? Mamma, soprattutto dico a te così Che è la mia collaborazione? Sì, la collaborazione sarebbe buona, buona No, puoi parlare, è una casezza zitta Mmm, è buono! Ripeto, fatemi sapere se vi piace così l'inquadratura Ecco l'acqua, vabbè, non è tanto fastidiosa Che buona, e poi le conchiglie, cioè le pipette rigate, è una delle mie passe preferite Mmm, questa è la pasta tipo di Lili e Vagabondo Che mangiano lo spaghetto e poi anche le polpette Ristorante da Tony mi pare, bellissimo, cartone Peccato che quelli non sono spaghetti No Prego Si intraviste mia madre Ma sediti, no? Perché lo metto in piedi con me? No, ma non mangio Non mangio in piedi Siediti Eh sì Bene Mmm Buonissimo Un po' di polpette, un po' di pasta Che meraviglia Eh, alcuni di voi mi hanno detto La qualità è migliorata, stai già usando la fotocamera? No, ragazzi Perché devo ancora settarla E devo prendere, perché non era compreso Il cavo, quello di alimentazione Che carica la batteria Cioè la posso usare Poi quando si scarica Non c'era in dotazione C'era solo il cavetto USB Che trasferisce le cose Furbetti Vabbè L'ho preso E mi deve arrivare insieme a quell'altro Che trasferisce le immagini anche all'iPhone Ma Quando lo userò ve ne accorgerete E me lo direte voi proprio Buonissima Se ce n'è ancora Faccio il bis Vediamo Finisco prima Come qua Ma le polpettine sono Il ripieno che le hai fatto per le verdure E' vero? Molto Quello che dicevo ieri Gli avanzi non si buttano Si riutilizzano Questi tipi di avanzi Ovvero C'è l'impasto che ho fatto Per fare le verdure Capito? Che meraviglia Mi ha morito Stavate da bis Sei bellissima Anche tu Grazie Meraviglia Stasera Due mukbang avrete Perché Prima è uscito quello dei canali Mio marito ha conduzione familiare Questo non è la conduzione familiare Non facciamo Come ieri Che Abbiamo fatto Un casino Però E' tanto che mi chiedevate Un mukbang E quindi Oggi usiamo questi tovaglioli Anche bello Sempre natalizi Puppazzo di neve Pestelline Pallina Pallina Siamo proprio tipo una candela Barattolo Il cavalluccio A dondolo Il curicino Il pacchettino Il ferro di cavallo Non so se c'entri col Natale Però vabbè Ci piace Vi comunico già Ragazzi Che abbiamo fatto Un mega video Cioè Mega Mega video No Una mega spesa Online Da esse lunga E sono stata lì A scegliere Minuziosamente Le cose Tipo Cucino Questo 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 E quella Non so che Da poco è uscito Un video spesa Sul canale di coppia Ancora Non so Che lo registrerà Però domani Ci sarà Spesa fatta Online Dobbiamo Così Un attimo Interrotto La cosa È comparso Perché C'ho la batteria Scarica Quasi Dobbiamo solo Decidere Chi Chi Fare Video spesa Magari Potremmo farlo Di coppia Che è una cosa Nuova La carrellata Mi è fregato Il forzoletto Il forzoletto Vabbè La carrellata Nello scontrino Ci sarà E E niente Una spesa Pensata Per cucinare Varie Varie cose Insomma Vedrete Se si Lascio Senza Tagli Sto Video Oggi Ha come Un piatto Sicuro Sono piena Perché Ancora Non ho finito Senza Pena Sarà Interessante Perché Sarà Pieno Di cose Che vedrete Capirete Più o meno Che cosa Cuscinerò Ecco E' una spesa Diversa Dal solito Sì 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 Una spesa Grossa Fatta Da Il Se Lunga Ho Fatto Due Giorni Fa Però Il Ritiro Me Lo Da Per Domani Che è Nove Però Vabbè Si Dechera Tutti Slot Erano Pieni Il Fatto Che C'era L'Epifania Non lo So Ti Sento Molto Silenzioso Voglio Che Stai Aggradendo Stai Gradendo Molto La Pasta Amore Buona Bene Mi Fa Piacere Non è Un ragù Mamma Cos'è È È Sugo Con Le Polpette È Ragù No Perché Comunque Il Sugo È Liscio È Poroso È Luvido Mi È Iniziato A guardarmi Una serie Con Mio Marito Come Si Chiama Tu Ti Ricordo Il Titolo Mi Ha Detto Non So Se Mi Piace Il Primo Episodio Il Secondo Episodio Si Carina E Poi Dico Ma Se Non ti Piace Non Guardo Da Sola No No Mi Piace Finiamo Questo Guardiamo Domani Oggi Mi Fa Non Mi Piace Quella Serie Non Potevi Dirmelo Ieri Che io Andavo Avanti A guardarmelo Vero Amore Non Posso Parlare Stava Bevendo Buona La Purpettina Lascio Per Ultima Forse Dopo Vi Faccio Anche Una Live Vediamo Abbiamo Sempre Yumi Sullo Sfondo Vanno Lì Perché C'è Il calorifero E Lo Adorano C'è Sentire Caldo Non So Perché Tutti I Gatti Sono Così Bene È Finito Praticamente E Per Ultima La Polpettina Che Buono Anche Il Profundo Una Fra Pasta Top Bene Amici Non vi Ho Detto Buon Appetito Buona Priscina Buon Qualche Vi Pare Perché Non L'O Più Abituata Vabbè Io Spero Che Di Farvi Compagnia Quando Cenerete Pranzerete E Nulla Vi Mando Un Mega Bacione E Noi Ci Vediamo Alla Prossima Ciao Ciao